Sono finiti nell'inferno di Hell's Kitchen e molti di loro sono rimasti scottati. Adesso. Bello vedervi con la giacca nera, bidona. Si gioca da soli. Dare soli, non pensa a se stesso. Hell's Kitchen. Ce la fate? Sì, Sì! In prima visione, martedì dalle 21.10, su cielo. Oh, con la giacca nera, ma è che mi ferma più, eh? Grazie.